Emergenza furti in tutto l'agro e non solo in tutta la provincia di Salerno. La media di appartamenti svaleggiati nell'ultimo periodo sembra aumentare a dismisura. Non solo ville e stabili monofamiliari, ma soprattutto appartamenti alle abitazioni ubicate all'interno di palazzi. Nessuna zona della Valle del Sarno sembra salvarsi. Nella zona al confine tra Nocera Inferiore e Superiore sono numerosi i colpi messi a segno nelle ultime settimane. Anche l'area tra Castel San Giorgio e Rocca Piemonte è stata presa di mira dai ladri. Anche in pieno centro a Pagani qualcuno ha tentato di intrufolarsi in qualche appartamento. Il modus operandi non è più quello della grondaia. I malintenzionati entrano direttamente dalla porta d'ingresso senza far nemmeno tanta fatica. Le vecchie porte blindate infatti risultano obsolete e facilmente forzabili con i chiavistelli di ultima generazione. Le forze dell'ordine fanno il possibile per presidiare il territorio. A dedicarsi a questa attività sono per lo più immigrati di origine slava, ma non mancano bande organizzate di italiani provenienti dall'Interland napoletano con qualche appoggio locale che studia le abitudini delle famiglie prese di mira. Eppure basterebbe qualche piccolo accorgimento in più per ridurre notevolmente il rischio. Innanzitutto chiudere sempre il portone d'accesso al palazzo, evitare di lasciare le chiavi sotto lo zerbino o in altri posti facilmente intuibili e vicino all'ingresso, essere cauti anche nel lasciare post-it attaccate alla porta d'ingresso. Attenzione anche ai social network, evitare di pubblicizzare i propri spostamenti. Si consiglia anche di installare un buon antifurto, aumentando in generale le difese passive e di sicurezza, anche con le nuove serrature europee le cui chiavi sono difficilmente duplicabili. Si tratta di un ottimo deterrente tra una casa con l'allarme e le telecamere ed una senza, i ladri preferiscono quelle senza, soprattutto se si tratta di bande non troppo organizzate o armate. Anche un buon rapporto con i vicini è importante, possono guardare la casa in caso di assenza. Un buon rapporto con i vicini aiuta in caso di assenze prolungate, sono i primi guardiani. Un altro accordimento utile potrebbe essere l'acquisto di un timer per l'accensione e spegnimento delle luci, così da far sembrare che ci sia sempre qualcuno in casa. Infine, se si abita in zone isolate, un cane da guardia, oltre a dare l'affetto che solo un amico a quattro zampe può dare, è anche un buon baluardo di sicurezza. E nel caso, rientrando in casa, vi accorgiate che la serratura è stata manomessa o che la porta è socchiusa, non entrate, chiamate immediatamente il pronto intervento.